ciao a tutti da joker questo è l'ultimo carico di oggi che ho vediamo quanti soldi mi dà 595 mila se la faccio in città invece esterna però è pericolosa 892 e da qui cosa mi può dare non mi ricordo più io tento tento quella da 892 via tento dai via non mi ricordo i mezzi non mi ricordo non so non lo so cosa c'è un elicottero c'è perché tutta sta giravolta vai e sali su un elicottero bestiale non l'ho mai fatta quell'elicottero no l'ho fatta e buzzer dovrebbero essere dei buzzer senza però i missili non hanno niente nei mitragliatore credo potrei sbagliarmi anche adesso però la prima cosa è quel pallino giallo che ci devo passare sopra sto tentando sto giocando proprio come giocare a carte ok una piccola viratina si pensa ok ah e si si buzzer eccoli là eccoli io direi prendere quella più lontana io direi di prendere questa e poi poi l'ultima eh li cambio anch'io le carte vedete non c'è mitragliatori non c'è niente appena 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 prima che mi schianto ok vedete missili non ha niente né mitragliatori pulito è un buzzer 5 consegni da fargli con questo spero che dovrebbe andarmi bene ho guadagnato di brutto poi farò un conteggio e devo mettere tutti e cinque video durano circa una mezz'ora all'uno eh oggi che giorno è oggi è il 3 dicembre eh 2022 sabato credo eh adesso non c'ho il pado proprio a mente stavo guardando vorrebbe essere più vicino ci sono i fumi sto andando giù di qui eh vado a istinto eh ho un istinto quello seguo il mio istinto ecco lì il fumo l'ho visto l'ho visto adesso stavo guardando da un'altra parte e non mi viene eccolo qua attenzione ecco sono passato proprio dentro a pelo eh andiamo a questo l'ho rischiato eh di brutto qui mi conviene tenere il buzzer scendiamo in picchiata veloce scendiamo in picchiata veloce ecco l'ho rischiato sì Grazie a tutti. Ecco il fumo, adesso lo vedo. Ehi, ti fa fare il giro della mappa, eh? È mancato? È mancata? Ah, piazza. È mancato il passaggio. Ehi, ti fa fare il giro della mappa. 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 A presto. Devo passare sopra, è vero. Sopra quel pallino e se no non mi da la missione. Non la dà nulla. Questa è la seconda volta che è capitato di elicotteri, è raro, raro veramente, raro. Il pallino sembra spento, poi si accende, hai visto? Non passato, ok. Prendiamo questo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Non riesco a vedere i cumi, forse è qua su... forse è qua su... ah c'è una villa forse una villa è su una villa quella grossa bella rossa dove si fanno anche le consiglie delle macchine eccola lì vai 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 ho provato a dare una guardata il fumo è qui però eh guarda eccolo qua sotto dove l'ha messo sulla strada a stare attento ai tralicci dov'è l'altra forse è nel campo no sto guardando siamo attenti a questi a questi sballati qua su infatti l'ha detto lui aspetta di un caloroso benvenuto se li passi sopra e più di così non sale sta facendo una fatica proprio bestiale a salire perché voglio vedere i fumi per quello sono salito di quota voglio vedere poi scendo e quindi attenzione che puoi illudere, illude il puntino non è proprio lì qua sotto non è qui ma è dietro la montagna anzi sopra eccola lì è fatto bene a fare così l'altro adesso lo avevo visto sembra qua dietro eccolo lì ecco lì ecco lì me lo so scordato vabbè un minuto e mezzo non è giusto che uno deve uscire dalla prima persona per andare a prendere il menu interattivo no 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 la rockstar la salunga qui la salunga proprio la salunga la rockstar qua e solo sugli elicotteri non posso aprire il menu interattivo non è giusto più di questo non va lo sparo mi fa 145 miglia questo non arriva neanche a 130 vabbè però sono sempre in linea d'aria basso bassissimo per cercare di farcela prendere l'ultimo se ci metto 50 secondi e buone mi rimangono 10 minuti potrei farcela potrei farcela a pelo sono al massimo e più di questo non va è al massimo 34 secondi 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 9 minuti e 38 Grazie a tutti. 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 Perché il prossimo video. sarà questo. di questo. Ok, vediamo... che punto è... poi... poi me ne vado... il bunker... a finire... forte... 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 155... 155... sono... 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 sono già... sono... ok... 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 tanti... 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 tanti...